signori buongiorno bentornati sul mio canale bentornati in un nuovo video stavo scrollando nei video stavo vedendo quelli che abbiamo fatto ma soprattutto stavo vedendo le richieste che mi avete fatto più di una volta mi è capitato di leggere vostre richieste dove mi chiedete di realizzare il pane di semola tipo il pane altamura per farvi capire mi sono messo un po a cercare online ho trovato un sito che parla proprio del pane di altamura di op come lo fanno le varie procedure come lo vanno a lavorare o comunque cerca di raccontare quanto più nella maniera veritiera il prodotto per chi fosse interessato vi metto il link nel box informazioni così se siete curiosi gli potete dare un occhio la preparazione di oggi cosa sarà la preparazione di oggi sarà un pane di semola non diremo di altamura perché non abbiamo le credenziali per fare un pane tipo altamura non abbiamo l'acqua non abbiamo la semola del posto la zona del posto non abbiamo il forno non abbiamo tutti i vari criteri che determinano la dop cercheremo di fare un prodotto prendendo spunta da quella realtà andremo a impastare a mano anche perché mi si è rotta la planetaria mi dovrebbe arrivare a giorni il prodotto di oggi avrà come base come lievito il lievito madre io vi ho caricato il video sono contentissimo che vi sia piaciuto che sia riuscito a trasmettervi il principio base senza troppi giri di parole o comunque senza troppi termini specifici e andremo a utilizzare il lievito madre ma attenzione non andremo a utilizzare un lievito madre a raddoppio che adesso vi farò vedere che andandolo a lavorare come lo andrò a lavorare io mi darà un prodotto che a livello casalingo mi sta bene mi funziona mi piace comunque mi dà soddisfazioni mi permette di evitare uno spreco ma soprattutto mi permette di risparmiarmi quelle quattro ore di attesa per il raddoppio cominciamo subito con la lista della spesa non perdiamoci in chiacchiere andiamo dritti al solo che è ora di impastare lista della spesa ma signori miei prima della lista della spesa come ogni volta io vi ricordo di supportare video e canale con un semplice like un commento dove mi scrivete qual è il prossimo pane che volete vedere così mi documento e cerco qualcosa lo facciamo e ad iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e rimanere ragionato su quelli passati grazie lista della spesa gli ingredienti saranno 700 grammi di semola rimacinata 15 grammi di sale 2 grammi di lievito di birra fresco 420 millilitri di acqua 150 grammi di esubero di lievito madre amici andando a lavorare a mano per rendere il tutto un po più fattibile semplice e veloce andremo a sfruttare il principio dell'autolisi ovvero andremo a idratare con il 60 per cento circa dell'acqua totale da ricetta la farina mescoleremo finché tutta la farina non assorbirà tutta l'acqua e a questo punto copriamo e lasciamo riposare io vi direi anche in giardino comunque al fresco per più o meno un'oretta questo riposo che cosa farà questo riposo aiuterà chiaramente la farina a idratarsi strutturerà o comunque andrà a strutturare già la maglia glutenica e successivamente noi riusciremo a chiudere prima l'impasto evitando anche di scaldarlo di andare a rovinare la maglia o comunque di fare più fatica nel chiuderlo quando sarà passata più o meno mezz'ora dall'inizio della nostra autolisi che cosa facciamo prendiamo il lievito madre io il lievito madre come lo conservo l'ho tenuto un'oretta in frigo dopo averlo tolto dal frigo l'ho lasciato un'oretta sul termo in modo che si acclimatasse lo tiro via dal suo boccale e lo metto in acqua a più o meno 35 40 gradi con un cucchiaino di zucchero all'interno tagliato in fettine questo qui andrà a togliere parte dell'acidità andrà a svegliare il nostro lievito e farà l'effetto del caffè per noi la mattina quando ci svegliamo lo lasciamo un quarto d'ora 20 minuti più o meno passato questo tempo che cosa facciamo preleviamo la quantità che ci serve e nella stessa brocchettina dell'acqua che andremo a utilizzare o comunque addizionandolo dell'acqua che c'è rimasta da ricetta lo andiamo a montare con delle fruste con uno sbattitore a mano come volete dobbiamo ottenere una crema di lievito anche questo processo qui andrà a svegliare andrà a dare un po di energia al nostro lievito fatto questo in teoria la nostra base di lavorazione è pronta la nostra autolisi è pronta cominciamo a lavorare aggiungiamo il lievito aggiungiamo parte della nostra soluzione di lievito e lo cominciamo a impastare mi raccomando impastando a mano è un attimo che affoghiamo l'impasto o lo perdiamo quindi visto che andiamo appunto a lavorare a mano aggiungiamo poca acqua alla volta e aggiungiamo la successiva solo quando la precedente sarà assorbita facendo così noi siamo sicuri o comunque andiamo a prevenire ipotetici affogamenti dell'impasto che da un momento all'altro l'impasto proprio si molla non lo riusciamo più a recuperare ci prendono i cinque minuti se così dovesse essere fate così coprite l'impasto lo mettete o al freddo fuori o in frigo per una mezz'oretta e recuperiamo il principio di prima quindi riposo e freddo vanno a strutturare e a recuperare l'impasto attenzione se avete la planetaria che vi funziona non come la mia che è rotta seguite le stesse linee guida ma lavorando in planetaria preciso uguale quando l'impasto starà cominciando a prendere struttura entriamo con il nostro sale facciamo assorbire il sale e continuiamo con la nostra soluzione di lievito sempre un pochino per volta quando avremo messo tutta la soluzione e comunque il composto comincerà a prendere struttura ci spostiamo sul piano impastiamo di polso e tricipiti e quando il nostro composto sarà bello da vedere sarà liscio riusciremo a lavorarlo e avremo visibilmente un bel panetto lo mettiamo in una terrina e lo facciamo riposare un'oretta e mezza più o meno l'impasto adesso è molto rigido abbiamo molto stressato e molto nervoso lo facciamo riposare un'oretta e mezza al caldo lo potete mettere nel forno con la lucina accesa oppure io mi sono fatto una piccola camera di lievitazione dove lo conservo lì a 22 24 gradi più o meno so che la temperatura è quella e lui è tranquillo lì passata l'ora e mezza quindi con il nostro impasto che è leggermente lievitato chiaramente non è che ha avuto chissà quanto tempo lo portiamo sul piano e adesso la scelta sta a voi potete decidere di fare come faccio io di fare due pagnottine che andrò a dividere una con me e una con mia sorella oppure farne una grande ma rendetevi conto che abbiamo un chilo e mezzo di impasto quindi vi servirà un bel contenitore per cuocerlo o comunque gestire bene i tempi andiamo a fare le pagnottine e andiamo a formare come lo formavano i panettieri nel video ovvero prendiamo un angolo con la mano sinistra prendiamo e tiriamo al centro facciamo lo stesso con la mano destra in ogni angolo portando al centro e tenendo ferma con la mano sinistra quindi prendi centro fermo prendi centro fermo prendi centro fermo e così via la mano sinistra sta sempre ferma e quando avremo fatto tutta la circonferenza lo mettiamo a riposare riposerà anche qui tre quarti d'ora un'ora indicativamente passato questo tre quarti d'ora un'ora riprendiamo le nostre pagnottine e ripetiamo l'operazione andiamo ad allargare prendi centro tieni prendi centro tieni e così via facendolo per due volte fatto questo o lo mettiamo in un contenitore quelli da pane i cestini da pane le terrine quello che avete oppure lo mettiamo in una placchetta come siete più comodi voi gli facciamo una seconda lievitazione di più o meno anche qui un'ora un'ora e mezza più o meno volendo secondo me potete anche fare una fermentazione un po più lunga con temperature più basse ma loro non la facevano troppo lunga loro andavano abbastanza spediti fatto questa seconda lavorazione passiamo alla cottura la cottura come l'andremo a fare visto che il camino è troppo freddo la legna bagnata non riesco a farlo l'andremo a cuocere in un modo che a me soddisfa particolarmente ovvero utilizzando una pentola di ghisa la pentola di ghisa che funzione ha praticamente vi rendete conto che riesce a trasmettere benissimo il calore in tutti i punti mettiamo la pentola a scaldare attenzione la pentola di ghisa costano un polmone costano parecchi soldi io ne ho comprata una su amazon di amazon basic che fa il suo l'ho pagata 50 60 euro poca roba fa il suo fa il suo per il pane fa il suo per i brasati fa il suo per le lunghe lavorazioni ci sta ed è comunque un qualcosa che io consiglio però tu adesso sono sicuro chiederei perché però la pentola in ghisa la pentola in ghisa immaginatevi scaldando su tutta la superficie ovunque diventa un vero e proprio forno quindi è come se noi cuocessimo in un forno più piccolo ma attenzione in quel forno l'umidità che andrà a rilasciare il pane sarà ideale per lo sviluppo di questo pane quindi avrà umidità sufficiente e non troppa per evitare di limitare o collassare il prodotto la cottura l'andremo a fare come all'interno della pentola con il forno a più o meno 240 250 gradi più o meno per un 30 minuti passato questo 30 minuti togliamo il nostro coperchio e lasciamo cuocere il nostro prodotto facendo sì che si formi la crosta e facendo sì che il nostro prodotto asciughi adesso se tutto è fatto come si deve se abbiamo rispettato tutti i parametri io passo la palla al me del futuro per l'assaggio il giorno successivo questa è la nostra meraviglia lui la mia prima pagnotina di semola e volete uno spoiler lui è il mio regalo di natale e ci darà una mano con i prossimi contenuti adesso pranziamo che ho fame la struttura è molto fitta alla fine abbiamo un 65 per cento di trattazione abbiamo usato un esubero di lievito madre la mollica è morbidissima la mollica come vedete è bella piena la crosta è marcata ma non tantissimo la potevamo cuocere di più poteva ammarcarla di più però come vedete avendo utilizzato un esubero di lievito madre e quant'altro la struttura anche la poca idratazione è bella la mollica è morbida e fa proprio profumo di pane di semola e tu giustamente mi dici è pane di semola però sembra proprio buona andiamo a fare veramente semplice semplice questo sarà il mio pranzo ed è quello che avevo nel frigo prosciutto crudo qua sono arrivati a rapporti due ragazzi e due verdurine grigliate e lui amici è il mio primo pane di semola niente di che colore giallino è buono ma io mi chiedo sembra che non mangiate sembra che non mangiate e che fate la fame mangiano più di me mica credere facciamo un patto con tutti e due chip e chop io ve ne do un morso con una fettina se vi iscrivete al canale lasciate like e commentate se lo fate mi faccio un panino anche a voi avete fatto ok tenete piccola precisazione personale con la dose di sale che gli abbiamo messo dose che ho preso spunto come per tutto il resto dal sito che vi ho detto personalmente lo sento un po sciapo un po giù di sale a gusto mio se preferite il pane tipo toscano comunque un pane privo di sale un pane sciocco tenete bene questa dose perché secondo me vi può andare bene se invece preferite un pane un po più saporito io vi consiglierei di aumentare leggermente il sale ne abbiamo messo mi pare 15 grammi fate 20 22 grammi aspettate amici il video è finito siamo giunti alla conclusione anche di questo esperimento vi prometto che faremo altre pagnotte impasteremo a mano se avrete piacere fatemelo sapere qui sotto nei commenti io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato spero che il video possa essere stato di vostro gradimento vi abbia intrattenuto vi abbia fatto venire farmi vi abbia spinto a provare a fare il pane di semola e vi ricordo se volete anche voi un panino come i miei bimbi di iscrivervi al canale accendendo la campanella lasciare un like e commentare scrivendomi qual è la prossima pagnotta che vorreste vedere ciao